Pace e bene! Oggi vorrei raccontarti un episodio della vita di Raoul Follerot, un grande apostolo dei lebrosi, che girò diverse volte il mondo con sua moglie per prendersi cura e sensibilizzare l'opinione pubblica sui lebrosi. Raoul Follerot si trovava in un lebrosario in un'isola del Pacifico, un incubo di orrore. Solo cadaveri ambulanti, disperazione, rabbia, piaghe e mutilazioni orrende. Eppure, in mezzo a tanta devastazione, un anziano malato conservava occhi sorprendentemente luminosi e sorridenti. Soffriva nel corpo, come i suoi infelici compagni, ma dimostrava attaccamento alla vita, non disperazione, e dolcezza nel trattare gli altri. Incuriosito da quel vero miracolo di vita, nell'inferno del lebrosario, Follerot volle cercarne la spiegazione. Cosa poteva dare tanta forza di vivere a quel vecchietto così colpito dal male? Lo pedinò discretamente. Scoprì che, immancabilmente, allo spuntar dell'alba, il vecchietto si trascinava al recinto che circondava il lebrosario e raggiungeva un posto ben preciso. Si metteva a sedere e aspettava. Non era il sorgere del sole che aspettava, né lo spettacolo dell'aurora del Pacifico. Aspettava fino a quando, dall'altra parte del recinto, spuntava una donna, anziana anche lei, con il volto coperto di rughe finissime e gli occhi pieni di dolcezza. La donna non parlava. Lanciava solo un messaggio, silenzioso e discreto. Un sorriso. Ma l'uomo si illuminava a quel sorriso e rispondeva con un altro sorriso. Il muto colloquio durava pochi istanti. Poi il vecchietto si rialzava e trotterellava verso le baracche, tutte le mattine. Una specie di comunione quotidiana. Il lebroso, alimentato e fortificato da quel sorriso, poteva sopportare una nuova giornata e resistere fino al nuovo appuntamento con il sorriso di quel volto femminile. Quando Follerò glielo chiese, il lebroso gli disse «E mia moglie!» E dopo un attimo di silenzio, prima che venissi qui, mi ha curato in segreto, con tutto ciò che riusciva a trovare. Uno stregone le aveva dato una pomata. Lei tutti i giorni me ne spalmava la faccia, salvo una piccola parte, sufficiente per apporvi le sue labbra per un bacio. Ma tutto è stato inutile. Allora mi hanno preso, mi hanno portato qui, ma lei mi ha seguito. E quando ogni giorno la rivedo, solo da lei so che sono ancora vivo, solo per lei mi piace ancora vivere. Che il Signore ci aiuti davvero a scoprire ciò che davvero vale nella nostra vita. L'importanza di ogni singolo gesto d'amore. Sì, anche di un semplice sorriso. Madre Teresa diceva «Nessuno è così povero da non poter dare un sorriso e nessuno è così ricco da non poterlo ricevere». E ricordiamo bene, l'amore è l'unico tesoro che possiamo accumulare qui sulla terra e portare un giorno in cielo. Che il buon Dio ti benedica.